La missione in Amazonia Le immagini aiutano a capirci e sentirci in comunione. Sempre ho pensato alla missione come una strada a doppia circolazione. Dare e ricevere, insegnare e imparare. Missione come dialogo, come scambio. Questa è la finalità di questa presentazione. La missione in Amazonia per me ha molte facce. Ha più di un aspetto. Non sto solamente in un posto. Non svolgo una sola attività. Fin dall'inizio è stato così. Parrocchia e villaggi indios. Indios di Ollapocchi nel Amapà e indios del Parà. Indios del Parà e Amapà e indios del Brasile. Indios del Brasile e indios nel continente latino-americano. Oggi, oltre alla missione nelle Americhe, sta nascendo la missione in Africa, Mozambico. Oltre alla missione in Brasile, sta nascendo la missione Brasile-Guiana-Francese e Guiana-Olandese. Oia Pocchi, Cayenna, Suriname. Dentro la città di Belen, sta nascendo la missione per recuperare prostitute e drogati. La missione è così. Viaggi, incontri e principalmente progetti e sogni. Ho quasi 70 anni e ancora sogno. Sogno lontano. Sogno l'impossibile che a volte si realizza contro tutte le previsioni. Sogno, spero e investo. Forse questa è la caratteristica della mia missione. Una missione sempre in costruzione. Voglio presentarvi un poco delle attività che svolgo e vi parlerò dei sogni a partire da queste immagini. Belen è una città alla foce del fiume delle Amazzoni. Belen è l'entrata dell'Amazzonia. Io nel Brasile appartengo alla diocesi di Macapà, ma lavoro a livello della regione del Parai a Mappà e anche del Brasile. In Belen abito nella casa del Pime, pontificio istituto delle missioni, di cui faccio parte. La casa del Pime si localizza in questa piazza. Questa è la chiesa della Madonna del Rosario degli Uomini Neri, una confraternita solta più di 300 anni e che ancora esiste. Al Pime è stata affidata questa chiesa, che poi lui ha consegnata alla parrocchia per mancanza di personale disponibile. Al lato c'è la costruzione che oggi è una scuola per preparare professionali nella comunicazione, gestita da padre Claudio Pighi del Pime. Questa è l'entrata della casa e al lato di questa c'è l'entrata della rivista Messaggero, dove noi lavoriamo come Consiglio Indigenista Missionario. A partire dagli anni Sessanta la casa era la procura del Pime e serviva di appoggio alla missione nella Mappà. Ma oggi ha perso questa funzione perché Mappà ha tutto quello che ha Belen. Solo non c'è il Vice Consolato Italiano. Ma ancora oggi è casa di appoggio dei padri che passano in Belen. Entriamo, che ve la faccio vedere. Entriamo qui nella sala di televisione e di visite, di ritrovo. Questo qui è un piccolo scrittorio con internet e computer che serve anche a chi viene a volte. Seguendo, questa è la casa delle riflessioni. E poi tre stanze per ricevere gli ospiti che vengono. E poi c'è la mia stanza. Adesso vi farò conoscere la sede del nostro lavoro per i popoli indios, fatto in echippe, insieme a Sua Rebecca, Artù e Wilson. Questa sede è al pian terreno della casa dei Pime. Era solo un salone di incontri che abbiamo diviso per organizzare il nostro lavoro. Questa è la porta di entrata esterna. Questa è la sala di entrata. Questa è la biblioteca e sala di riunioni. Ogni giorno alle 8 ci riuniamo qua e beviamo un caffè espresso italiano. E tracciamo il programma del giorno e a volte della settimana. E ogni pomeriggio alle 2 del pomeriggio ci beviamo un alto caffè espresso della Bialetti prima di ricominciare il lavoro. Questa è una piccola cuscina. E questa è una sala per riproduzioni offesette e sherox. Qui c'è la sala di Sua Rebecca, braccio destro e amica e collega di missione da 35 anni. Qui ci sono i nostri archivi. Archivi di fotografie. Ce ne abbiamo tante. Fotografie, slides, lavori in CD e in DVD. Questa è la mia sala. E quest'altra è la sala di Wilso e Artù. Ognuno con i suoi compiuti e con compiti specifici. Senza di loro non riusciremo a realizzare il lavoro in Belen. Artù è un artista che realizza disegni e la paginazione della nostra rivista. Wilso fa di tutto e risolve casi difficili oltre alla contabilità. Qui c'è il nostro studio di produzione e registrazione di programmi radio e edizioni di programmi televisivi. Non vi meravigliate. Facciamo lavori specializzati e con un buon livello di qualità, ma non siamo specialisti. È la passione che ci guida. È la buona volontà. Qui fuori c'è un cortile che era in cemento. L'abbiamo cambiato in giardino con un tappeto di erbe, fiori e ortaggi. Guardate questo fiore. È di un cactus rampicante. Appare raramente, forse una volta all'anno. È dura poche ore. Ma è tanto bello. Ma abbiamo altri fiori a rallegrare la nostra vista. A venerdì è usanza a chiudere la settimana lavorativa con una caipirina, che è fatta con la cachaça, distillato di canna da zucchero, limone e zucchero o un poco di vino. È il nostro arrivederci a lunedì. È il momento di dire se la settimana è stata approfittata. Qui dietro c'è il nostro posteggio, che è affittato. È la macchina che ci permette non solo di adempiare i nostri impegni nella città di Belè, ma anche di dare assistenza a vari villaggi indios nel sud e nell'est del Parà. Cerchiamo di appresentarvi il lavoro che realizziamo in Belè, che non è poco. Al primo posto è l'edizione bimensale, ogni due mesi, della rivista Messaggero. Nata nel 1979 e che raggiunge l'Indios di quasi tutto il Brasile. È una rivista di informazione e formazione, a volte a numeri speciali su temi particolari. Attualmente sta sendo utilizzata abbastanza nelle scuole indigene e anche nelle scuole non indigene. Lavoriamo anche con un programma radio, che raggiunge ogni settimana circa 110 stazioni radio FM. E diariamente anche piccole notizie attraverso la radio Appare Sida, diffusa in tutto il Brasile. La maggiore radio cattolica del Brasile. Realizziamo anche documentari televisivi per la TV Nazaré, ma anche facendo DVD per i villaggi, come forma di scambio e di comunicazione e di formazione. Realizziamo anche con i DVD campagne specifiche, per esempio, in difesa dell'Indios Guarani, dell'Indios Shukuru, che sono criminalizzati. E abbiamo fatto una campagna molto espressiva per il riconoscimento della terra Iro-Raima di vari popoli indios, principalmente Makushi e Wapishana. E' stata una campagna vittoriosa. Qui a Belè attendiamo colleghi e anche parrocchie e comunità, e anche prostitute e mendicanti che abitano sui marciapiedi. Nel sabato e domenica a volte celebrono nelle parrocchie che hanno bisogno di sacerdoti. In queste celebrazioni a volte si stabilisce un contatto permanente e un'amicizia che dura. Nella città di Belè c'è un'altra sede del SIMI Consiglio Indigenista Missionario, del Parai Amapà, che noi abbiamo iniziato diretto e che adesso c'è un gruppo di lasci che la portano avanti. Oia Pocchi, il mio primo amore. Arriva in questa cittadina all'estremo nord del Brasile, confine con la Guiana francese, nel 1971. Senza comunicazione geografica stradale con il resto del paese, era più facile venire in Italia via Cayenna che arrivare a Macapà, la capitale del territorio e adesso stato. Era parroco padre Tommaso Maisto, che però rimase solo due anni dopo si ammalò. E io mi occupavo dei villaggi indios, dei caboclos, della gioventù e di una colonia militare fondata anni prima, decine di anni prima. Qui a Oia Pocchi nacque la mia seconda vocazione missionaria a favore dei popoli indios. La metà della parrocchia in quell'epoca era formata da quattro popoli indios. Ormai sono passati 40 anni. Dio ha benedetto questa missione. La terra india è garantita, riconosciuta e non è invasa. È l'unico stato in tutto il Brasile in cui le terre indigene hanno quasi questo privilegio. Il numero dell'Indio si è raddoppiato. L'avanzo maggiore è stato nel campo dell'educazione scolastica. Oggi ci sono più di 150 maestri formati anche a livello universitario e più qualche centinaio di studenti che frequentano corsi universitari. E' rinato il loro l'orgoglio della propria identità india che non c'era. E' essorto a una forte organizzazione a livello sociale e politico. Anche le donne hanno conquistato il loro posto sia dentro la società india che fuori. Quasi tutte le funzioni e gli incarichi sono ricoperte dall'Indios. Ancora mancano specializzazioni nel campo della salute, dentisti, infermieri a livello universitario e medici e ministeri nel campo della Chiesa, principalmente del sacerdote. Ancora accompagniamo questi popoli e circa di 35 villaggi con visite periodiche e li accompagniamo principalmente nel campo della religione e della gioventù. Inviamo volontari che insegnano musica e fanno catechesi. Anche nel campo di Oia Pocchi abbiamo iniziato visite perché nella città abitano cerca di mille Indios. Ci sono anche due missionari laiche che risiedono nel villaggio maggiore di Kumaruma e una di loro visita anche altri villaggi in un altro fiume. Consiglio indigenista missionario nel Parà e a Mapà. Una regione vasta quasi cinque volte l'Italia. In Brasile all'inizio degli anni 70 iniziarono le pastorali specifiche e la prima fu il consiglio indigenista missionario che la missione tra i popoli indios. Rimanevano poche missioni tra l'Indios gestite da religiosi e tutte sorte nel secolo XX. Adesso nasceva un nuovo stile di missione preoccupata anche con il lato materiale rispettosa della cultura e che voleva aiutare l'Indios a essere padroni del loro futuro. Le circostanze furono tali che Dio mi fece incontrare questo organismo fin dalla sua nascita e ancora oggi ne faccio parte con orgoglio. Nonostante l'isolamento geografico di Oia Pochi riuscì a conciliare la responsabilità di una parrocchia e il lavoro nei villaggi di Oia Pochi con iniziative nel campo religioso saluti e organizzazioni insegnamento riuscì a conciliarlo con la coordinazione di un lavoro missionario in un territorio vasto quasi cinque volte all'Italia e con mezzi di trasporto precari. Il lavoro principale fu l'invito la preparazione l'accompagnamento la formazione di missionari religiosi e laici e le assemblee gli incontri tra i popoli indios. Furono anni duri principalmente dovuto alla dittatura militare e all'avversione di questa al nuovo lavoro missionario della Chiesa. Anni di persecuzione e materio che fecero stare in apprezzione la mia famiglia e la Chiesa. Anni di molto entusiasmo coraggio e realizzazione. L'appoggio della Chiesa regionale e nazionale al nostro lavoro fu essenziale. Dio misa a mio fianco Suor Rebecca Spires di capacità eccezionali sensibilità di donna amore ai poveri passione per l'Indios. Insieme a lei ha messo persone che sempre mi hanno accompagnato aiutato sorretto in questo lavoro difficile e entusiasmante. I missionari aumentarono con l'ingaggiamento di circa quindici laici di missionari saveriani dei padri del Verbo Divino delle piccole sorelle di padre Carlo di Foucault delle missionari di Gesù Crucificato oltre alle congregazioni già esistenti padri francescani e suori missionari dell'Immacolata Concezione una congregazione che è nata nel Parà. Aumentò la nostra presenza nei villaggi indios e la coordinazione degli incontri sono gli indios Palikur principalmente Galibi Maruorno Karipuna Munduruku Kirio Kashuyana Assorini di Tocantins Paracanà Assorini di Coatinemo nel fiume Shingu Arara Varie villaggi Kayapo Indios Tembe Paracateje Anambè Guarani Non mancarono visite e accompagnamento alle missioni già esistenti e numeri corsi e assemblee per missionari e indios Rimase nella coordinazione fino al 1987 Intanto dentro il Sime nascevano altri compiti come la rivista Messaggero di cui abbiamo parlato iniziata nel 79 che continua ancora oggi L'entusiasmo era grande In quell'epoca realizzammo un'assemblea nazionale nel villaggio di Kumaruma o Iapok isolato dal mondo e dal Brasile Ci furono indios come Munduruku che impiegarono quasi 20 giorni di viaggio per arrivare fino là o 14 giorni come l'Indios del Matto Grosso e così via Dentro i Sime oltre alla comunicazione mi interessai della parte religiosa sacramenti e catechesi e dialogo interreligioso Nacque la Andri articolazione nazionale di dialogo interreligioso e inculturazione che realizzò un importante servizio per l'Indio missionari e chiese locali durante decadi Oggi il lavoro continua a livello regionale nazionale e continentale con la riflessione sulla teologia india attraverso AELAPI articolazione ecumenica latino-americana di pastorale indigena Nacque nel 1989 e finora solo a livello continentale ha realizzato sei incontri ampiamente documentati e divulgati E dire che in mezzo a tutta questa attività ho dedicato il mio tempo anche la diocesi assumendo la coordinazione di pastorali durante cinque anni e la partecipazione nella programmazione delle pastorali sociali durante venti anni nella città di Macapà e ancora oggi con la segretaria la esistente Oggi continua la missione tra i popoli indios anche in altre parti del Brasile però l'orizzonte della missione si è allargato la missione è tamb'è la difesa della natura e dell'Amazonia la missione è andare all'incontro degli ultimi dipendenti di droga e prostituzione la missione è interessarsi per il traffico umano e 40.000 brasiliani in Cayena nella Guiana Francese para Maribola Guiana Olandese che non hanno assistenza religiosa e umana la missione è la missione oltre le frontiere in Mozambico Africa a cui noi siamo chiamati in difesa della natura e dell'Amazonia principalmente in questo nuovo millennio abbiamo molto lavorato per la sensibilizzazione della società in favore della madre terra e della casa comune minacciata di distruzione abbiamo prodotto numeri speciali della rivista e altri sussidi cd e principalmente vari documentari in dvd per la televisione e le comunità parte di questi documentari li abbiamo tradotti nella lingua spagnola italiana e inglese l'Indios hanno una proposta di modello di vita e società in relazione con la natura chiamata ben vivere il modello di sviluppo rappresentato dalla nostra società è scrudente e distruttivo la società è sempre più sensibile a questo problema è un progetto e programma che vuole sostituire il progetto di sviluppo e progresso che produce sempre più povertà e colloca in pericolo il nostro futuro missione oltre le frontiere in Mozambico Africa l'Amazonia fino a oggi è una regione colonizzata tutti vengono a prendere e portare via ma anche una regione povera di ministri consagrati e di religiose la maggior parte vengono da fuori il Brasile sta organizzando una grande campagna missionari per l'Amazonia come coordinatore dei Comiri consiglio missionario regionale proponiamo le chiese locali che sono 15 tra diocese e pelasie che assumono una missione oltre i confini cioè in Africa Mozambico è l'ora che la mezzogna dia della sua povertà per crescere e maturare come chiesa perché una chiesa non è chiesa e non è matura se non è missionaria per quanto povera sia proponiamo che la missione sia composta principalmente per laiche e sacerdoti diocesani il processo è in andamento la missione sarà nella diocese di Lishinga il cui vescovo è un deognano italiano a Doelio a Dio piacendo l'anno prossimo questa iniziativa sarà una realtà attualmente dobbiamo invitare discernire preparare e dopo inviare accompagnare sostenere e accogliere al ritorno è un cammino che non è facile ma è possibile se anche voi sognate sentite l'invito del Signore e non dite di no se non potete venire perlomeno partecipate con la vostra preghiera all'interesse e la solidarietà San Paolo ci ricorda hai di me se no evangelizzo e ancora ho ritenuto immondizia tutto quello che il mondo può offrirmi in cambio dell'amore di Dio e stare unito a Lui Filippensi 3.8 e nei numeri il Signore dice come chiedere la benedizione sul popolo che il Signore ti guardi e ti protegga il Signore ti illumini con la luce del suo rosto e ti usi misericordia il Signore ti guardi con amore e ti dia la pace all'incontro degli ultimi dipendenti di droga e prostituzione in Belè vicino a casa mia è una strada di prostitute e di gente che dorme su masciapiedi da poco tempo è venuta a Belè una piccola comunità chiamata Missione Bethelene fondata da un padre italiano padre Pietro ha come carisma vivere e dormire su masciapiedi e proporre il Vangelo offrendo la possibilità di cambiare vita attraverso l'accoglimento in una casa quelli che accettano sono invitati in una casa a Benevidis località circa 30 km di Belè dove rimangono per mesi fino a liberarsi dalla dipendenza e iniziare una vita nuova attualmente hanno con loro 56 ragazzi uomini accolgono anche persone ammalate che non sanno dove andare e dove dormire io mi sono dato da fare perché aprissero una casa anche per le donne il progetto si è realizzato in una località a 55 km di Belè con un locale casa collocata a disposizione dal vescovo di Castagnau Don Carlo Veselletti della diocesi di Brescia Fidei Donum io li accompagno spiritualmente quando mi chiamano e li aiuto finanziariamente considero questa missione un grande regalo di Dio carissimi amici stavamo per finire questa registrazione e ho ricevuto i risultati di una biopsia in andamento dovuto a una massa strana nei polmoni il risultato è stato infiltrazione maligna il mio medico ritorna fra tre giorni e mi incontrerò con lui il 12 luglio comunque in un caso come questi i piani cambiano e non sai che ti riserverà il futuro in tutti i sensi io continuerò a vivere la mia vita pienamente nella misura dei possibili a lottare e anche abbandonarmi nelle mani del Signore ieri un mio carissimo amico è venuto e mi ha detto Nello non siamo preoccupati ma sappiamo che finora te la sei cavata in situazioni difficili hai saltato un ponte con la motocicletta e sei caduto in acqua nel fiume nella notte di un sabato santo sei uscito in colume dall'aereo che si era schiantato in mezzo alla foresta ti è venuto un infarto vuoi a pochi e sei vivo uscirai anche da questa Dio ti ascolta io gli ho detto ma le cose non sempre vanno in questo senso questa è la mia preghiera favorita di tutti i giorni mio padre mio amico Gesù io mi abbandono in te fa di me quello che vuoi qualunque cosa tu faccia io ti ringrazio sono preparato per tutto accetto tutto con tutto che la tua volontà si realizza in me e in tutta la creazione io non desidero altra cosa nelle tue mani consegno la mia vita te la do mio Dio e mio amico con tutto l'amore e la fiducia del mio cuore perché ti amo e ho una necessità di amore darmi consegnarmi nelle tue mani senza limiti e condizioni con una fiducia senza confini perché tu sei mio padre perché tu sei morto per me è una preghiera di padre Charlie che è diventata la mia amici Dio sa quello che desidero Dio conosce la mia volontà di continuare la missione perché tutti i sogni non si sono ancora realizzati ma la missione non è mia è sua e non finirà grazie per la vostra solidarietà e il vostro affetto è molto bello voi siete un regalo suo per me vostro padre renello e il vostro affetto